Eccoci di nuovo insieme cari amici di Telemolise per l'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ancora con la giudiziaria perché il Tribunale di Larino ha riconosciuto adesso, cioè ieri, in via definitiva, il diritto di possesso dell'appartamento adiacente alla Villa Frattura di Termoli alla signora Maria Rosaria Cerio e ha condannato la PTS Village al pagamento delle spese processuali. In sostanza è stata rigettata anche l'opposizione alla sentenza. La notizia è stata divulgata dagli avvocati Romano e Corsi e ora le indagini procedono in sede penale. Potrebbero esserci sviluppi clamorosi ed eclatanti. In apertura Giovanni Minicozzi. Una sentenza definitiva e senza appello quella emessa il 28 ottobre scorso dai giudici Enzo Turco, Veronica Dagnone e Luigi Guariniello, nominati dal Presidente del Tribunale di Larino per decidere sul reclamo presentato dalla società PTS Village di Gianluigi Torzi e Paolo Frattura contro l'ordinanza emessa in prima istanza dallo stesso Tribunale civile che riconosceva il pieno diritto dell'affittuaria Maria Rosaria Cerio ad occupare l'appartamento annesso alla Villa di Termoli utilizzata dal Presidente della Regione Paolo Frattura. Il dispositivo non lascia alcun dubbio, conferma il diritto della locataria, condanna la PTS Village al pagamento delle spese e di fatto sbugiarda Paolo Frattura. Lei ha realizzato il sogno dei parecchi italiani, ampliarsi la casa al mare senza spendere in centesimo? È una bugia. Mica tanto, ma perché lei si è impossessato senza alcun titolo della casa della signora Iole Paranese? Ma se c'è una causa, vediamo come va la causa e dopodiché se ho commesso. Ma perché deve aspettare la causa la signora se quella è casa sua? Ma questo è quello che dice la signora. No, questo lo dicono le carte. L'amministratore della società mi ha garantito che non esiste quanto dichiarato dalla signora Varanese. L'amministratore ha garantito che quello che dice Iole è tutto inventato, non esiste. E quindi anche l'altro notario è il catasto? Mentono? Io le dico che io so chi mente. Lui sa chi mente. No, lo saprò. Nel momento in cui il giudice si esprimerà. Lo chiuso il cancello, domani non è più entrata. L'ha chiusa fuori. Non fa la miglior figura se restituisce quella porzione di casa alla legittima proprietaria e ci fa rientrare l'affittuaria. Senza aspettare il giudice. Non ci fa una migliore figura. Ma se lo può togliere dalla testa. Ma se lo può togliere dalla testa. Ma se lo può togliere dalla testa. Grazie, si può ottenere tutta la villa sul mare. Mentono? Io le dico che io so chi mente. Mentono? Io le dico che io so chi mente. Le indagini ora proseguono alacremente su fronte penale. Nei giorni scorsi, dopo il sequestro di alcuni arredi interni ritrovati nell'azienda Microspore Eccese Sacom di Gianluigi Torzi, è stato eseguito un sopralluogo nell'appartamento devastato dal PM di Larino che segue l'inchiesta accompagnato dal capo della squadra mobile di Campobasso Raffaele Iasi, da Maria Rosaria Cerio e dalle sorelle Iole e Flora Varanese ritornate dopo diversi anni nella loro casa. Non ci sono parole, ma le immagini amatoriali parlano da sole per descrivere lo stato d'animo, l'amarezza e lo sconforto delle due signore entrambe anziane nel vedere lo scempio ed il barbaro saccheggio fatto da persone ancora ignote alla loro casa, costruita con tanti sacrifici che peraltro non produce più alcun reddito. Casa che Paolo Frattura ha ritenuto, bontà sua, di appropriarsene illegalmente e di tenere fuori abusivamente per oltre 15 mesi la legittima locataria di quell'appartamento, Maria Rosaria Cerio, la quale, dopo aver ripreso il possesso con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, si trova tuttora nella impossibilità di utilizzarlo in quanto reso completamente inagibile da inauditi atti vandalici. Definito il contenzioso civile, gli inquirenti ora seguono tutte le tracce per individuare i responsabili di molteplici azioni criminali e, secondo indiscrezioni, presto ci saranno sviluppi clamorosi ed eclatanti.